io vi dico la sincera verità io sono tanti anni che seguo il calcio dal 2007 in poi in maniera più dettagliata e approfondita prima magari andavo ogni tanto allo stadio a vedere il gubbio e seguivo qualche partita della roma ma penso che ormai sia da alcuni anni che seguire il calcio e soprattutto supportare queste due squadre sta diventando davvero difficile non perché io tenga meno a questi colori ci mancherebbe ma perché i risultati sportivi fondamentalmente stanno diventando davvero pesanti e non riesco in entrambi i casi anche se oggi chiaramente parlerò di gubbio a trovare una via d'uscita quando pensi a inizio campionato che la squadra effettivamente era buona e che poteva fare un percorso non dico al vertice ma positivo e migliore rispetto agli anni passati cosa che comunque sta accadendo per carità di dio puntualmente arrivano quei momenti che ti fanno capire ok quest'anno più della metà classifica non puoi ambire perché è vero questa sconfitta di oggi che si poteva anche preventivare non ti preclude niente a livello di scontri diretti comunque ne hai uno la prossima settimana da vincere assolutamente con l'olbia comunque sulle nostre zone parecchie squadre hanno pareggiato perso quindi rimani comunque lì non è che sei uscito dalla zona playoff ma facendo questa serie di risultati a me una domanda sorge spontanea che ci vai a fare playoff per fare una partita in più io lo ripeto meglio provarci che niente però secondo me i playoff conta veramente farli se hai le carte in regola per poterli portare avanti sono tante partite in campionato in più praticamente però se tu lo fai tanto per dire almeno sono finito tra le prime dieci allora tanto vale che non ci arrivi secondo me anche se comunque deve rimanere il nostro obiettivo oggi ho avuto la conferma come se non ce ne fosse il bisogno che questa squadra dal punto di vista mentale ancora non è non è solida una squadra che quando vuole sa anche giocare al calcio è perché il primo tempo è stato non dico disastroso ma molto sottotono abbiamo pensato fondamentalmente a difenderci evitando di subire valanghe di gol anche se comunque un gol l'abbiamo preso perché quella deve rimanere sempre una classica abitudine nel secondo tempo però siamo entrati bene siamo entrati con il pio giusto di chi vuole effettivamente recuperare il risultato ci si è riuscito temporaneamente con un gol di spalluto di testa e con un ingresso secondo me molto positivo di sarao che dopo le ultime critiche per il rigore sbagliato e per le ultime prestazioni è entrato con la voglia e con il pio giusto una delle poche note positive di questa partita poi però purtroppo come si come voleva si dimostrare alla prima difficoltà al primo errore vero dal punto di vista difensivo perché fino a quel momento ce l'eravamo cavicchiata arriva il gol del 2 a 1 anche qui il portiere poteva fare qualcosina di più e la squadra si è completamente spenta poi nel finale è arrivato anche il 3 a 1 ma quello è il classico gol che arriva quando ormai la squadra ospite si sbilancia e tu appunto riesci a colpirli e a chiudere di fatto il risultato i dati parlano chiaro guardando queste ultime partite tu hai fatto due punti nelle ultime quattro gare pareggiando una volta 1 a 1 una volta 0 a 0 o 2 a 2 comunque una volta 0 a 0 e perdendo le altre due una 4 a 0 e questa 3 a 1 lo ripeto in casa del pescara si può anche pensare di perdere non è uno scandalo però è inammissibile che tu dall'inizio del 2022 non hai ancora vinto una partita e non è che c'è la sosta di mezzo che ne hai giocate un paio sono già quattro partite ancora non hai fatto tre punti in una così non va bene ragazzi così non va bene perché dà fastidio dà fastidio perché allora se tu fossi scarso uno lo accetterebbe dico io vado lì già so che perdo se tutto va bene festeggio un pareggio ma ok ma per me il gubbio ripeto non è scarso quando appunto mi fa vedere nel secondo tempo che le capacità ce le ha mi dà fastidio perché poi si spengono all'improvviso come se si dimenticassero di delle proprie qualità tecniche poi c'è da dire che anche gli ingressi subentrati non hanno fatto tanto meglio dei titolari chiaramente sotto questo punto di vista devi saperli sfruttare meglio perché è vero i subentrati non possono sempre cambiare la partita ma almeno una volta tu devi avere da tifoso l'impressione che un ingresso possa svegliare la squadra invece in queste ultime gare ogni volta che entra un giocatore dalla panchina tu sai che al 90% non farà nulla e comunque il risultato rimarrà così com'è ripeto non è che deve succedere sempre però ogni tanto un po' un pompiglio comunque un consiglio a quelli che sono in panchina che entrano nella ripresa il mio consiglio personale è di svegliarsi perché capisco che posso dar fastidio magari non giocare dai titolari però se ti danno occasione il mister un minimo di piglio in più e voglia e grinta di voler dimostrare visto che siete calciatori professionistici professionisti scusate lo dovrebbero dimostrare però chiaramente qua bisogna lavorarci anche dal punto di vista mentale perché oltre che tecnico ma quello lo ripeto secondo me non è il problema il problema è che il Gubb ogni tanto durante le partite pensa ma non è che a moll'improvviso stiamo giocando effettivamente bene possiamo fare qualcosa di buono poi all'improvviso arriva un gol sbagliato oppure un gol subito e subito usciamo dal campo questa è una cosa inammissibile perché oltre che dal punto di vista tecnico e qui ovviamente ci lavora società e dirigenti serve anche un miglioramento dal punto di vista mentale bisogna sapere gestire bene il risultato perché è inammissibile quest'altra cosa e qui voglio più vedere il video che tu ogni volta che vinci non sei mai sicuro di portarla a casa quando perdi al 90% e sei sicuro che non la vinci e che non la rimonti questa è una cosa che non va bene bisogna capire che le partite sono lunghe e che per quanto dal punto di vista mentale possa essere brutto prendere un gol magari in un momento in cui ti sentivi positivo bisogna saper reagire perché se no ogni volta basterà che tu prendi un gol e tutti quanti chiudiamo le valigie e andiamo a casa tanto alla fine comunque la partita la vai a perdere mentalmente bisogna crescere e se no non si va da nessuna parte messaggio semplice e chiaro che penso che tutti quanti potrete comprendere facilmente detto questo ragazzi allora vi invito a lasciare un mi piace per supportare il mio lavoro e quello del mio collega Marques Rosso Blu vi invito a iscrivervi al canale attivando la campanella per non perdervi tutte le prossime novità insieme al fratello di mio cugino Just Matti troverete tutti i link in descrizione appunto dei nostri canali privati pagina facebook di mio cugino il mio canale personale graditore giallorosso94 e il canale di Just Matti se volete seguirci anche lì privatamente a noi fa praticamente per modo di di sapete che ci fa tanto tanto piacere ci vediamo al prossimo video un saluto sempre comunque forza cubbio e niente da fare quest'anno ancor più degli altri per me vedere il calcio è una sofferenza ciao ragazzi ciao 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 ciao